Salve amici del Centro Meteo Italiano. Perturbazioni in avvicinamento da ovest con peggioramento del tempo nei prossimi giorni e poi anche nel weekend. Tra giovedì e venerdì confermato il transito di una saccatura atlantica sul Mediterraneo centrale con condizioni di locale maltempo. Fenomeni prima al nord-ovest con possibilità di locali nubi fragili sulla Liguria e oggi è tempo agli sparsi poi anche al nord-est e sulle regioni tirreniche centrali. Correnti occidentali anche nel prossimo weekend sul Mediterraneo centrale con tempo variabile a tratti piovoso sull'Italia, soprattutto al nord. All'inizio della prossima settimana l'ultimo aggiornamento del modello GFS propone una depressione atlantica in avvicinamento da ovest e una goccia fredda in movimento sull'Europa centro-orientale. Non esclusano nuova fase di maltempo entro la metà della prossima settimana con piogge temporali ma anche calo delle temperature e prima neve a quote medie. Trattandosi di una tendenza seguite però tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.